E' mercoledì, ci troviamo sullo splendido manto erboso del nuovo di via Olimpia di Castelfrentano, in pieno allenamento i ragazzi dei Pulcini e i primi amici. A questo lato c'è i Pulcini di mister Giulio Massimini, c'è anche il mister Simone Giordano, c'è anche il mister Nicola Di Campli. A quest'altro lato c'è un altro gruppo di ragazzi, c'è il mister Giulio Massimini. E' una bella giornata, un bello pomeriggio, la temperatura è gradevole, mentre ieri faceva un freddo. Qua al centro abbiamo un altro gruppo di primi calci, c'è la mister Anna Rita Valente. Con i suoi ragazzi del gruppo, sta facendo fare degli esercizi con la palla. Mentre a quest'altro lato c'è il coordinatore dell'area tecnica, coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile, mister Gabriele Di Felici, con il suo gruppo di ragazzini. E' pieno di attrezzatura, ci stiamo man mano attrezzando, ovvero completando con i vari attrezzi. Fra poco arriveranno altri attrezzi per far sì che i ragazzi si divertino con strumenti adatti. Qua abbiamo un altro gruppo di primi calci, c'è il mister Francesco Mancini con il suo gruppo di ragazzi. Si divertino i ragazzi e nello stesso tempo prendono compidenza con il pallone. E' un bel pomeriggio, c'è il sole e i ragazzi finché il tempo lo permette, qua all'aperto è il luogo migliore dove i ragazzi si divertono. Alcuni ragazzi ci hanno divise diverse, come questo ragazzino con la maglia dei colori della Juventus. Ce ne sono tanti, in quanto sono i nuovi iscritti di quest'anno, e in settimana massimo all'inizio della prossima arriveranno i kit per tutti, i kit di abbigliamento, così tutti saranno vestiti uguali. Signor e signori, alla prossima ripresa!